La collezione Bulgari Accessori nasce da una lunga storia e una lunga ricchezza del brand Bulgari. Bulgari è un brand di gioielli con 130 anni di storia e abbiamo appunto una grande fortuna per poterci ispirare a dei gioielli meravigliosi che hanno una grande storia e una grande ricchezza. In questo caso stiamo parlando del nostro segno Serpenti che è uno dei segni più iconici del brand Bulgari da dove gli accessori hanno tratto ispirazione per costruire un grande successo di borse che abbiamo introdotto recentemente, un paio di anni fa e che ci sta dando veramente una grande soddisfazione in tutto il mondo. La linea Serpenti ha una forma riconoscibile che ci rappresenta e che porteremo avanti nel tempo e diventerà la forma iconica dell'accessorio Bulgari. Abbiamo questa chiusura gioiello riconoscibile, è veramente speciale e prende proprio della lavorazione, della craftmanship del nostro gioiello. Ispirata ai gioielli che possiamo vedere sposti, pezzi veramente unici, sono degli anni 60, sembrano dei bracciali, in realtà sono degli orologi, dentro effettivamente quando uno lo apre scopre un orologio. Sono gioielli degli anni 60 però che traggono a sua volta ispirazione dai gioielli serpenti che erano già presenti nel mondo romano, addirittura nel primo secolo dopo Cristo. Quindi questo legame di Bulgari con la sua romanità e con la sua storia presente in tutta la collezione gioielli e noi di conseguenza cerchiamo di portare avanti anche la nostra collezione accessori. I capisaldi della stagione sicuramente è la nostra linea Serpenti Forever su cui abbiamo continuato a investire con alcune novità, quindi abbiamo lavorato su dei nuovi materiali, delle nuove lavorazioni, il galusha, le lavorazioni tridimensionali. Abbiamo il visone per la prima volta. Abbiamo anche lanciato una nuova linea per festeggiare l'anniversario Bulgari Bulgari. L'orologio Bulgari Bulgari nasce 40 anni fa e nel 2015 festeggiamo appunto questo quarantesimo compleanno e noi abbiamo creato una nuova linea chiamata Bulgari Bulgari Signature che portiamo con grande orgoglio perché è molto molto legata al DNA della marca, non soltanto perché è il nostro logo, ma perché gioca con materiali inaspettati, avvinamenti colori, ma sempre con la connotazione gioiello che ci contraddistingue. La donna Bulgari nasce un po' sempre dal nostro DNA. Nel nostro DNA abbiamo una parte importante che è questa donna diva che nasce diciamo nel mondo del cinema già degli anni 50. Ovviamente la donna di oggi è una donna diversa, però è una donna che ama ossare, è una donna che ama ossare, che è pronta a mettersi un gioiello, un orologio serpenti nel polso, una colana serpenti, ma anche indossare una borsa, un accessorio che la distinguerà. Comunque lei sia vestita con un abito da sera o un jeans e una maglietta bianca, la borsa Bulgari la contraddistingue, la veste e gli dà quel tocco speciale che la nostra donna Bulgari ama avere con sé. Quindi una donna sicuramente che ossa.